Sono Alessandro Bedarobba, abitavo a Monteforte, oggi abito ad Avellino, ho venduto casa 6-7 mesi fa a Monteforte per motivi di lavoro, per motivi per i bambini che andavano a scuola ad Avellino, mi ero stancato di andare avanti e indietro questo tram tram e ho deciso di vendere casa in un momento molto difficile e mi sono rivolto alla Capital House di Monteforte dove ho trovato una situazione proprio familiare con dei ragazzi che mi hanno aiutato in questo mio momento difficile perché vendere casa in quel momento era veramente una cosa molto difficile, casa in ribasso e quindi mi hanno aiutato in questo percorso e adesso fortunata ci siamo riusciti, abito ad Avellino e dove praticamente ho trovato la casa che cercavo e siamo felici della mia famiglia. Grazie.